Quelli che davvero amano Gesù sono tutti grandi penitenti guardano e riguardano al cuore per scoprirsi sempre più mancanti la donna peccatrice ai piedi del Signore voleva il suo perdone e non riusciva a parlare le lacrime scendevano sui piedi di Gesù con i capelli suoi le asciugava e baciava io non ti ho dato acqua per i piedi io non ti ho dato un buon profumo non ti ho versato io sul tuo campo io non ti ho detto Signore ti amo pietà di me, pietà di me Signore io non ti ho dato acqua per i piedi io non ti ho dato acqua per i piedi io non ti ho dato acqua per i piedi io non ti ho dato Signore ti amo pietà di me, pietà di me Signore fammi sentire un acuto dolore e vergogna per i miei peccati voglio che tu mi dica fatene in pace pietà di me, pietà di me Signore vieni adesso e purifica il mio cuore la mia giustizia è come un panno sporco pietà di me, pietà di me Signore grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti